nessuna polemica, ho soltanto annunciato quello che sarà il percorso da un punto di vista legislativo, normativo e giuridico dell'ente pubblico della zona dei servizi pubblici, per cui lavoreremo ai fini di un aggiornamento normativo e giuridico dell'azienda, abbiamo quei sei mesi di tempo entro i quali io credo che possiamo davvero portare l'attenzione del Consiglio Grande Generale, sia la prima che la seconda lettura, per poi sviluppare al meglio quello che è oggi una grande risorsa, cioè l'azienda dei servizi pubblici.